Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 21 dicembre, Alessandro contro Aurora Le tre rose di Eva 4, anticipazioni puntata 21 dicembre, Alessandro contro Aurora è da poco andata in onda la settima puntata delle tre rose di Eva 4, la fiction di canale 5 con protagonisti Roberto Farnesi e Anna Safron Cic Quest'ultima è tornata a vestire i panni di Aurora Gore dopo essere uscita di scena nel corso della terza stagione La trama, invece, di questa nuova stagione ruota attorno all'omicidio di Ivana Story Inevitabili gli intrighi e gli intrecci emorosi, che vedono coinvolti Aurora, Alessandro e Fabio Astori, Fabio Fulco In questo momento Aurora si trova tra due fuochi, da una parte Alessandro, il grande amore della sua vita, e Fabio con cui sta nascendo un vero sentimento Cosa accadrà la prossima settimana? L'ottava puntata delle tre rose di Eva 4 vi aspetta giovedì 21 dicembre in prima serata su canale 5 Vittorio Astori alleato di Alessandro nell'ottava puntata delle tre rose di Eva 4 Alessandro è sempre più deluso e si convince di aver perso per sempre Aurora A questo punto l'uomo decide di allearsi con Vittorio Astori per riuscire a togliere prima luce ad Aurora Alessandro è spietato, non si ferma di fronte a nulla, vuole togliere ad Aurora tutto ciò per cui è lottato Il comportamento cattivo di Alessandro permette ad Aurora di allontanarsi da lui e avvicinarsi a Fabio Aurora e Fabio, infatti, sono sempre più vicini e affettati e a quanto pare Aurora si convince che è lui l'amore che le permetterà di cambiare finalmente vita Tuttavia ad Aurora arriva una lettera, che in qualche modo le fa rivalutare il brutto comportamento di Alessandro anche se lui non intende tirarsi indietro Intanto Veronica, nonostante sia ancora gelosa di fiamma e innamorata di Edoardo si rende conto, che il giovane Monforte è ormai della piccola Astori e decide quindi di farsi da parte Arriva così uno straziante e commovente addio tra i due In realtà, però, i due si dovranno rivedere perché l'eronica viene rapita da Cristina Rontal, Anna Favella Infine Fabio trova la prova, che incastra Vittorio in quanto assassino di Ivan Così lo mette alle strette davanti a Lea e Carlo Qualcosa, però, non va secondo i suoi piani Vittorio, infatti, mostra il video di Ivan Che sconvolge Fabio l'assassino di Ivan Fabio si convince che Vittorio sia l'assassino di Ivan e ne trova le prove Il video, però, che vede protagonista e il fratello cambia le carte in tavola Cosa accadrà, cosa ci sarà in quel video, chi ha ucciso davvero Ivan, non ci resta che aspettare la prossima settimana per vedere l'ottava imperdibile puntata delle tre rose di Eva 4 Grazie a tutti!